Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie. Buongiorno, saluto al sindaco, grazie di essere qui, Katia, Bastioli e tutti gli amici di Newmont, Paola, il Circo delle Ettore, una bellissima cosa per ritrovarci tra l'altro su questo teatro dove abbiamo già fatto spettacoli, è stato sempre un bellissimo ricordo. e mi ha scritto anche Lucilla Giagnoni che non può essere qui e sarà in altre occasioni. Dunque, mi ha detto adesso Paola facciamo un'oretta insieme di discussione, di lancio anche di questo ciclo. Io non voglio fare la solita presentazione in cui vi dico un po' come sarà organizzato, lo faccio implicitamente raccontandovi la mia storia, le mie cronache dall'antropocene, così capirete anche la filosofia con cui poi ci saranno gli altri quattro dialoghi, che vedrete saranno dialoghi con linguaggi diversi, ci sarà uno scrittore chimico, ci sarà una grande divulgatrice che è anche un'esploratrice, una viaggiatrice, potrete condividere con lei un bellissimo racconto, poi una giornalista scientifica con la quale parleremo di informazione, di fake news, di giornalismo e poi il dialogo finale con Katia Bastioli, con la quale ritesseremo tutte le fila di questi temi, parlando soprattutto di innovazione, di ricerca, economia circolare e così via. Quelli che abbiamo chiamato i veri, oltre che quelli che ci stanno salvando adesso in questi mesi, i veri vaccini intellettuali per affrontare un problema globale, che è quello di cui parliamo oggi, cioè antropocene, crisi ambientale. Ne sentite parlare ogni giorno in questo periodo, perché c'è la COP26, io però pensavo di proporvi in questo mio viaggio una chiave di lettura un po' diversa dal solito. Sapete, io sono un filosofo della scienza e sono un evoluzionista, quindi ho l'abitudine di vedere questi fenomeni anche nelle mie ricerche in università attraverso dei modelli, attraverso uno sguardo un po' più largo, cercare di capire dove ci mettiamo, dove siamo noi dentro una dinamica più grande. Perché questo manca tanto, secondo me, manca molto nel modo in cui parliamo di questi problemi. Li viviamo sempre giorno per giorno, come se fossero delle emergenze, ma in realtà bisogna capire qual è il sistema di cui fanno parte e che cos'è questo antropocene e che cos'è questa crisi. Voglio farvelo vedere, perché sai, antropocene potrei darvi una definizione, però la cosa migliore per capire che cos'è è farvi un esempio di misura dell'antropocene e poi raccontarvi come è stata coniata questa parola, perché è una storia molto istruttiva. Quindi mandiamo la prima immagine, eccola qua. Allora, c'è un po' tagliata la prima riga, ma non importa. Questo è Mark Twain. Mark Twain è stato un grandissimo scrittore, no? Sapete, avrete letto le sue cose, i suoi libri anche per ragazzi. Mark Twain nel 1903 pubblica un saggio che non ha letto, credo, nessuno, totalmente sconosciuto, dove discute di evoluzione della storia umana. E ad un certo punto, con il suo sarcasmo, con la sua penna accuminata, vi traduco questa citazione, dice Abbiamo scoperto, grazie a Darwin e grazie agli evoluzionisti, che la presenza umana sulla Terra è estremamente recente. Tant'è che, dice Mark Twain in questa citazione, se la storia del mondo fosse raffigurata metaforicamente come la Tour Eiffel, quindi immaginatevi, è la base della Tour Eiffel, l'inizio della vita sulla Terra, e poi con lo scorrere del tempo verso l'alto, in verticale, il passaggio delle epoche, nuove forme di vita, piante, animali, poi i primi antenati degli esseri umani, e alla fine Homo sapiens, dice Mark Twain. Ora, dice Twain, se noi facciamo il calcolo di quanto è la presenza umana quantitativamente sul piano temporale rispetto a tutta la Tour Eiffel, dice Mark Twain, corrisponde presso a poco all'ultimo strato di vernice messo sull'ultimo pinnacolo della Tour Eiffel. Cosa vuol dire? Vuol dire ovviamente, e aveva ragione, il calcolo è piuttosto preciso tra l'altro, vuol dire che il tempo in cui gli esseri umani sono presenti sulla Terra è veramente pochissimo, è l'ultimo quarto d'ora di una storia antichissima, di un oceano di tempo profondo che ci sta alle spalle. E poi Mark Twain conclude la citazione, in modo geniale, dicendo, e pensa un po', noi esseri umani continuiamo a pensare che la Tour Eiffel sia stata costruita proprio per metterci sopra l'ultimo strato di vernice sull'ultimo pinnacolo. E questo vuol dire che, ovviamente, se la storia, se le dimensioni sono queste, è un errore pensare che tutto quello che ci ha preceduto sia stata una, come dire, una preparazione per l'arrivo degli esseri umani. Perché dico che aveva visto giusto? Perché noi oggi questo calcolo lo possiamo fare con molta precisione. Immaginatevi, lo potete fare anche in modo molto intuitivo, immaginatevi che dall'inizio della vita sulla Terra, quindi 3,7 miliardi di anni fa a oggi, si è passato come un anno solare, quindi dal primo di gennaio al 31 di dicembre. Quindi passano i giorni, 365 giorni, la proporzione è circa un giorno, sono 10 milioni di anni. Ok? Quindi se lo immaginate così diventa tutto più facile. Ecco, vi do qualche data di questo calendario, tanto per farvi capire. Primo di gennaio, il primo organismo vivente, non l'abbiamo mai scoperto, sappiamo presse poco come era fatto, tra l'altro, curiosamente, assomigliava parecchio a un virus RNA, probabilmente, come quello che ci ha colpito nell'ultimo periodo. Poi, pensate, fino al 2 di novembre, quindi è passato praticamente già quasi tutto il calendario, 10 mesi, fino al 2 di novembre, le forme di vita sulla Terra rimangono soltanto allo stadio di microbi, cioè soltanto allo stadio di organismi fatti con una cellula soltanto, virus, batteri, tante altre cose, ciano batteri. Fanno molte invenzioni importanti, inventano la fotosintesi, la respirazione, plasmano la superficie terrestre, rendono la Terra abitabile per noi, perché senza tutto quel lungo periodo non ci sarebbe stato, per esempio, l'ossigeno in atmosfera che ci permette a noi di vivere. Però la cosa interessante è che fino al 2 di novembre solo forme di vita semplici, con una cellula soltanto. Poi dal 2 di novembre esplode l'evoluzione e decide di sperimentare un sacco invece di soluzioni alternative, pluricellulari, le piante, gli animali. Verso i primi di dicembre cominciano ad evolversi i dinosauri, che hanno dominato la Terra per un certo periodo. I dinosauri si estinguono con un grande botto di un asteroide alla vigilia di Natale, il 24 di dicembre, verso le 10 di sera. Si estinguono i dinosauri. Siamo già arrivati alla vigilia di Natale e non ci sono esseri umani in giro. I Flintstone non sono mai esistiti, gli esseri umani non hanno mai convissuto insieme ai dinosauri, anche se l'amico Albano l'ha detto in televisione anche qualche tempo fa, mi ha fatto molto ridere, perché ha detto abbiamo distrutto i dinosauri, cosa vuoi che sia una pandemia? C'è qualche sfasamento temporale. Però in realtà non aveva tutti i tordi, perché abbiamo scoperto che tre piccole famiglie di dinosauri sono sopravvissute la grande catastrofe e sono diventati gli uccelli di oggi. Quindi è vero che in fondo conviviamo non proprio con i dinosauri, ma con i discendenti dei dinosauri, che sono gli uccelli. Però qui la morale della favola qual è? Siamo la vigilia di Natale, passano ancora ore, giorni. Il 31 di dicembre, siamo all'ultimo giorno, alle 10 del mattino, vive, compare, l'antenato comune tra noi e gli scimpanzè. Quindi compare un organismo che è vissuto in Africa, anche questo lo conosciamo poco, che è l'anello di congiunzione, anzi il ramoscello di congiunzione, l'antenato comune, tra noi, che poi siamo arrivati molto tempo dopo, e gli scimpanzè, che sono i nostri cugini più stretti. La faccio breve, Homo sapiens, cioè noi, una specie umana, anatomicamente come ci conosciamo e cognitivamente fatti come siamo fatti noi, spunta, nasce nel calendario della vita, il 31 di dicembre, alle 23 e 32 minuti. Quindi 28 minuti prima della mezzanotte. Questo vi dà l'idea di quanto Mark Twain avesse visto giusto, no? Nel senso che proprio così noi siamo l'ultimo staterello di vernice di una storia antichissima. Questo dovrebbe indurci, se non altro, un senso di, un po' di vertigine temporale, ma anche di umiltà, no? È chiaro che questo pianeta non è fatto per noi, non si è evoluto per noi. Noi siamo gli ultimi arrivati, gli ultimi passeggeri di questa navicella Terra e adesso vi farò vedere tra poco una cosa interessante. Quindi immaginatevi, 28 minuti, tutta la storia umana. Quindi noi che nasciamo in Africa, 200.000 anni fa, usciamo dall'Africa intorno a 120-130.000 anni fa, andiamo ad occupare tutto il mondo, e poi il neolitico e poi la storia dell'accumulo, dello sviluppo tecnologico, culturale, fino ad arrivare a oggi, negli ultimi 28 minuti nella storia della vita. Soltanto per farvi capire ancora una volta quanto siamo giovani, considerate Homo sapiens, ormai lo abbiamo calcolato con una certa precisione, è nata la nostra specie 200.000 anni fa in Africa. Vuol dire che, da quando è esistito il primo gruppo fondatore della nostra specie, fino ad oggi, sono passate circa 8.000 generazioni. 8.000 generazioni sembrano tante, ma non sono affatto tante. Dovete immaginare voi stessi, i vostri nonni, i nonno del nonno, del nonno del nonno, dopo 4.000 nonni soltanto, siete già arrivati al punto di origine di tutta la specie umana. Quindi noi abbiamo vissuto finora pochissime generazioni. Questo per noi evoluzionisti, per noi biologi evoluzionisti, è molto importante. Vuol dire che noi siamo una specie che ha ancora avuto poco tempo per mutare, per evolvere dal punto di vista biologico e, per esempio, vi faccio solo un esempio, quando veniamo attaccati da un agente patogeno come un virus, non c'è storia, perché lui muta molto più velocemente di noi. A parte che è molto più antico di noi, ha avuto molto più tempo per evolvere strategie, per attaccare i suoi ospiti, ma poi è molto più flessibile, plastico, mutevole, accumula più mutazioni nell'RNA. Quindi noi ce la caviamo, non con l'immunità di gregge spontanea, che come qualcuno follemente disse all'inizio del primo lockdown, ma con le tecnologie, con i vaccini, che sono quelli che ci permettono di metterci al pari, di far fronte a un nemico così sfuggente, così rapido nel mutare. E tra l'altro, se le cose stanno così, capite anche molto bene come dal punto di vista evoluzionistico per esempio, vaccinare soltanto metà del mondo, la metà ricca del mondo, e dimenticarsi di vaccinare l'altra metà, non è un buon affare, da un punto di vista evolutivo, perché permetti al tuo nemico di continuare ad amplificarsi, a moltiplicarsi, a fare copia di se stesso, ad aumentare la possibilità di mutazioni casuali, e quindi la probabilità che sviluppi varianti, anche varianti resistenti ai vaccini. Quindi vedete che un punto di vista evolutivo vi fa capire, da un lato, il passato antichissimo, però illumina anche il presente, vi dà una chiave di lettura per capire che cosa sta succedendo oggi. Bene, adesso facciamo un altro salto temporale. Adesso eliminiamo tutta la tour Eiffel, ci concentriamo solo su quello strato di vernice, che siamo noi, sull'ultimo pinnacolo, e vediamo che cosa abbiamo fatto, non negli ultimi 28 minuti, ma nell'ultimo secolo soltanto. Vai con la prossima. Allora, questo è un grafico, avrei potuto farvi vedere tanti altri, ma ho scelto questo e si vede tutto. Questo è un lavoro che è uscito, lo vedete qui, è uscito su Nature all'inizio di quest'anno. È un lavoro impressionante, bellissimo. Tra l'altro il team di ricercatori che lo ha pubblicato, capeggiato da Ron Milo, che è un biologo che lavora al Weizmann Institute in Israele, è bravissimo, è un misuratore, uno di quelli che traducono in numeri un po' tutto, hanno anche pubblicato un sito divulgativo che si chiama antropomass.org, dove potete andare a spulciare, è molto divertente, dove quello che vi sto per dire è reso con delle grafiche anche molto belle, molto piacevoli. Ma la sostanza del discorso qual è? La vedete dal titolo. Questi sono riusciti per la prima volta, dopo anni di lavoro, perché è una cosa complicata, ci vogliono mappe satellitari, bisogna fare modelli e così via, la faccio breve, sono riusciti a pesare, cioè a mettere su una bilancia, e a pesare tutte le cose umane, cioè tutti gli oggetti, gli artefatti in uso, quindi esclusi i rifiuti, escluso tutto ciò che noi buttiamo via e che non usiamo più, gli oggetti d'uso di tutta la nostra vita, che vuol dire gli edifici, i teatri, le strade, le dighe, i ponti, tutte le infrastrutture, i mezzi di trasporto, gli aerei, i treni, tutte le vetture, tutti gli strumenti che noi usiamo dalla mattina alla sera, le suppellettili, i computer, i televisori, i telefonini, tutto, tutto l'insieme di quella che viene chiamata la massa antropogenica, frutto dell'ingegno umano, frutto delle tecnologie umane, tutta la tecne, no? Umana. Ed è venuto fuori un peso interessante che è, vabbè, un numero gigantesco, 1,1 tera tonnellate, che vuol dire 1.100 miliardi di tonnellate, è un peso ovviamente enorme, e tra l'altro poi si vede anche dentro qui di cosa è composto, il cemento la fa da padrone, i mattoni, gli asfalti, e poi il vetro, le plastiche, i metalli, insomma, vedete anche com'è scomposto poi. Ma la cosa incredibile che vedete da questa mappa è la curva esponenziale, che vedete si alza tantissimo dopo il secondo, dopo guerra, cemento, asfalto ovviamente, no? Ma anche le nostre grandi infrastrutture, la grande accelerazione che ha dato grande progresso, anche sviluppo, all'umanità, anzi, sarebbe sempre meglio dire a una parte dell'umanità, ovviamente, e a un certo punto, lo vedete in fondo, dove c'è 2020, l'anno pandemico, l'anno scorso, che cosa è successo? È successo che l'anno scorso, 2020, la massa antropogenica, l'insieme di tutte le cose umane, il peso delle cose, ha eguagliato per la prima volta la biomassa. Cioè, l'insieme di tutti gli oggetti umani pesa oggi, dal 2020 in poi, tanto quanto tutti gli esseri viventi sulla Terra messi insieme. Sull'altro piatto della bilancia, e la bilancia è in equilibrio, dovete metterci tutte le piante, tutti gli animali del mondo, tutti i virus, tutti i batteri, tutti i microbi, tutte le forme di vita, dalla prima all'ultima, pesano tanto quanto tutti gli oggetti umani. Tanto per darvi un'idea, la vedete qua, nell'anno 1900, quindi 121 anni fa, la massa antropogenica era il 3% della biomassa. Siamo passati dal 3% al 100%, non c'è stata eguagliata. Questa è una misura molto concreta di che cos'è l'antropocene. L'antropocene è questa cosa qua, cioè il fatto che Homo sapiens è, soprattutto nell'ultimo periodo, e soprattutto dal secondo dopoguerra in avanti, è diventata una forza, diciamo noi, geologica. Non è un'esagerazione, vuol dire che Homo sapiens è diventata una specie che attraverso le sue attività, nel bene e nel male, non sto dando giudizi di valore, nel bene e nel male, con grandi vantaggi ma anche con pericoli e rischi, ha saputo plasmare l'ambiente attorno a sé, riempirlo dalle proprie cose, deviare i fiumi, scavare le montagne, tirar fuori combustibili fossili, bruciarli in atmosfera emettendo gas serra, eccetera, eccetera. Ha fatto tutte queste cose. E messe insieme, questa è una firma biologica e geologica, si dice, cioè geofisica. Vuol dire sostanzialmente che gli scienziati del futuro la vedranno, la vedranno negli strati geologici dopo che siamo arrivati noi. Ecco perché si parla di antropocene, che tecnicamente vuol dire l'epoca geologica recente dominata dall'uomo, caratterizzata prepotentemente dall'attività umana. Tanto una cosa che adesso, oggi non avrò molto tempo per parlare, ma che vedete è interessante, la biomassa nel frattempo non è diminuita tanto, vedete che è rimasta piuttosto costante, no? La vedete, è una linea con qualche leggera ondulazione, ma è rimasta piuttosto costante. Anche lei pesa 1.100 miliardi di tonnellate dall'inizio del Novecento. Ma qui non vedete una cosa importantissima. Dentro quella biomassa, che è il peso lordo, no? Grezzo di tutti gli esseri viventi, qui non c'è scritto che la diversità di quegli esseri viventi, quindi come sono diversificati come numero di specie, è diminuita di più del 30%. Quindi vuol dire che quella biomassa si è uniformata, è diventata più omogenea, pesa sempre uguale, ma ci sono molte più specie invasive, che sono andate ad occupare un po' tutte le nicchie ecologiche dove noi le abbiamo portate, e quelle pesano. Quindi vuol dire che è una biomassa, che si è, certo, è rimasta stabile, ma si è impoverita in termini di diversità al suo interno, e tantissimo anche. Tanto per darvi un'idea, una riduzione del 30% di biodiversità in pochi secoli, adesso allarghiamoci anche a prima del Novecento, perché questa tendenza è cominciata già nel Cinquecento, nel Seicento, una riduzione del 30% in mezzo millennio è più dell'estinzione dei dinosauri, cioè è più grave come riduzione delle grandi estinzioni del passato. Questo è il motivo per cui oggi si parla di sesta estinzione, che finalmente è entrata anche nel linguaggio delle convenzioni internazionali. La sesta estinzione vuol dire che oggi siamo dentro una fase di riduzione della biodiversità, equiparabile alle cinque grandi catastrofi del passato, che sono stati momenti di sconvolgimento globale, in cui, per motivi non umani in quel caso, impatti di asteroidi, cambiamento climatico, deriva dei continenti, le ragioni sono le più diverse, la biodiversità rapidamente è diminuita. Però quando noi evoluzionisti, diciamo, rapidamente, vuol dire, per dire, l'estinzione dei dinosauri ci ha messo 300.000 anni per completarsi. 300.000 anni. Noi in mezzo millennio abbiamo fatto fuori il 30% di tutte le altre forme di vita. Ok? Questo è un altro numero importante, che vi dà l'idea di cosa stiamo parlando, no? Tra l'altro, purtroppo, ma io non voglio assolutamente essere troppo negativo e catastrofista, però i dati sono questi, bisogna dirseli, bisogna condividerli prima di discutere poi di tutte le soluzioni, di cui parleremo anche nei prossimi incontri. qualche mese fa, verso la fine dell'anno scorso, 2020, tutte le società scientifiche al mondo che si occupano, per esempio, di mare e di acqua, di acque dolci e di mari e oceani, più di 120 società scientifiche di tutti i continenti, quindi una... tutta la comunità scientifica che si occupa di acqua, da un punto di vista biologico, e non solo, anche quelli che si occupano di pesca, eccetera, hanno scritto un documento, non era mai successo prima nella storia che si mettessero d'accordo nello scrivere un documento, lo trovate online facilmente, nel quale hanno dato i numeri, hanno detto, guardate che la situazione in termini di riduzione di diversità è drammatica, e hanno spiegato quali sono i numeri, ve ne dico solo due, ripeto, possiamo fidarci, è un documento scritto dopo anni di lavoro da tutta la comunità scientifica che si occupa di acqua. Primo dato, nelle acque dolci, quindi se prendete soltanto laghi e fiumi nel mondo, dal 1970 a oggi, quindi nell'ultimo mezzo secolo, la biodiversità è diminuita dell'83%. 83% è una percentuale mostruosa, vuol dire che nell'ultimo mezzo secolo abbiamo lasciato nei fiumi e nei laghi del mondo il 17% di tutti i pesci, di tutti gli esseri viventi che ci abitavano mezzo secolo fa, il 17%, è pochissimo, è una riduzione di biodiversità terribile, però la biomassa non è diminuita, cosa vuol dire? Che dentro quel 17% rimanente ci sono un sacco di specie invasive che sono quelle che trovate anche nel Po, che trovate in tutti i nostri fiumi, sono molti meno animali e piante e alghe, ma molte di più. E questo non va bene, perché questo significa avere degli ecosistemi molto più omogenei, più uniformi, quindi più vulnerabili, più deboli, perché se c'è una regola aurea nell'evoluzione è che più diminuisci la diversità, più l'ambiente diventa instabile, diventa vulnerabile ai cambiamenti. E questo ci costa, ci costa, perché una percentuale altissima delle popolazioni umane vive vicino a quelle acque e ha in quelle acque le sue risorse della sua vita. E un altro dato, questo è girato un po' di più, secondo sempre questo documento, intorno al 2050, se non facciamo qualcosa di serio subito, all'incirca il 90% delle barriere coralline sparisce e si sbianca. Il 90%, vuol dire che alla metà del secolo ne restano il 10%. E le barriere coralline, questo lo sappiamo tutti, sono uno scrigno di diversità. Lì dentro c'è un terzo di tutta la diversità globale, quindi del mare. Quindi anche questo sarebbe una catastrofe. Questa però riguarda il futuro, quindi possiamo ancora evitarla se facciamo qualcosa di serio. Allora, vedete, questo è uno schema piuttosto chiaro, che vi fa capire che cos'è l'antropocene. Mandami la prossima, vi faccio vedere un esempio più concreto. Vedete, in questo sito web che vi suggerivo ci sono tutte queste comparazioni che tra l'altro se ci sono anche degli insegnanti in sala si possono usare anche a scuola, sono molto chiare, molto, basta tradurle e usarle in classe. Non lo so, qui c'è ancora la Tour Eiffel perché, per esempio, se voi calcolate il peso attuale di tutti i rinoceronti bianchi sopravvissuti, sapete che sono ormai in via di estinzione pericolosamente minacciati, ne restano poche migliaia, il peso di tutti i rinoceronti bianchi sopravvissuti è equivalente alla singola Tour Eiffel. Quindi la Tour Eiffel pesa come tutti i rinoceronti sopravvissuti in giro per il mondo. Oppure, qua vedete, che la massa di tutte le plastiche in giro per il mondo, che, sapete, cresce, continua a crescere e poi, sapete, va a finire sempre tutta in mare, pesa più di tutti gli animali messi insieme e invece tutte le infrastrutture, tutti gli edifici umani, pesano ormai più di tutti gli arbusti e le piante e tutti gli alberi e le foreste che ci sono nel mondo. E trovate un sacco di comparazioni così. E alcune sono veramente illuminanti. Un'altra, non ce l'ho qui in grafica, se voi prendete tutti i pesci che ci sono al mondo e li mettete su una bilancia, pesano come la singola città di New York. Quindi, New York pesa come tutti i pesci rimasti nei mari in questo momento. Insomma, trovate un sacco di comparazioni di questo tipo. Il messaggio è chiaro, questo è l'antropocene, lo vedete molto chiaramente da questi dati. Vai, fammi vedere la prossima così. A me piace perché è bene che chi ha il merito di aver detto queste cose per primo venga ricordato perché spesso siamo un po' smemorati anche noi nella comunità scientifica. Questo è Paul Krutzen, è stato un grandissimo chimico, premio Nobel, lo ricordo perché è scomparso qualche mese fa all'inizio di quest'anno e Paul Krutzen è stato un personaggio straordinario, ha fatto ricerche importantissime sull'ozono e quello che ha dato a tutta l'umanità la comunità internazionale gli strumenti per capire come intervenire per ridurre, per rallentare la riduzione dell'ozono nella stratosfera eccetera eccetera. Era un uomo pieno di inventiva e gli piaceva coniare termini nuovi, ha coniato il termine inverno nucleare per esempio che quelli meno giovani qua presenti ricorderà se ne è discusso tantissimo negli anni 70 e negli anni 80 vennero fatti dei film sui modelli fatti da Paul Krutzen su The Day After quello che sarebbe successo in caso di esplosione delle bombe atomiche eccetera eccetera. Nell'anno 2000 ispirandosi a un lavoro di un suo collega ecologo Eugene Sturmer in un convegno a Quernavaca in Mexico sbottò in modo quasi scherzoso perché i suoi colleghi geologi stavano discutendo ovviamente direi geologiche Pleistocene Olocene eccetera e lui salta su e dice ma sì ma basta basta con questi vecchi nomi di epoche geologiche ormai siamo nell'antropocene e lì fu il momento magico in cui questo termine venne pronunciato in un'assise scientifica ufficiale e lo presero sul serio ebbe un successo pazzesco quindi vedete a volte il potere quasi taumaturgico che hanno certe parole nel senso che sono quella metafora quella sintesi che a un certo punto dice quello che tutti avevano in testa con una parola sola e ha avuto un successo pazzesco la parola antropocene solo che ancora adesso sapete non è stata ancora introdotta ufficialmente nella stratigrafia perché la commissione internazionale ne sta ancora discutendo e perché devono ancora limare diciamo la definizione ufficiale però ormai è questione di poco tempo penso e tra un po' dovremo aggiornare tutte le carte che ci sono nelle scuole che arrivano a un certo punto con l'olocene dovremo aggiungere l'antropocene una cosa che a me diverte molto sto seguendo questo dibattito è che in realtà il ritardo nel introdurre la parola antropocene è dovuto soprattutto al fatto che litigano su quando farlo cominciare cioè non si sa bene non si mettono d'accordo su quando è che mettiamo la data di inizio dell'antropocene e questa è una discussione molto interessante perché Paul Krutzen propose una soluzione intermedia lui disse non diventate matti su quando farlo cominciare scegliete una data convenzionale e io vi suggerisco di farlo cominciare nell'anno 1800 convenzionalmente rivoluzione industriale macchina a vapore da lì in poi esplosione no l'età vittoriana il progresso i canali le ferrovie eccetera eccetera fatelo cominciare lì in realtà questa è una corrente di pensiero ma forse non è nemmeno quella prevalente forse non verrà fatto cominciare nel 1800 poi c'è un'altra corrente di pensiero che è quella a cui appartengo io minoritaria quindi vi dico già subito che abbiamo perso la battaglia che è invece quella di far la proposta è quella di fare cominciare l'antropocene con l'agricoltura con la domesticazione delle piante e degli animali perché se vogliamo essere rigorosi e diamo come definizione di antropocene il momento in cui l'uomo inizia a plasmare dal punto di vista geofisico paesaggio composizione dell'atmosfera il mondo beh è cominciato se non altro anche prima ma sicuramente è cominciato con l'agricoltura perché? perché agricoltura e allevamento hanno implicato il fatto che noi abbiamo preso poche specie di piante di animali le abbiamo moltiplicate a dismisura abbiamo fatto produrre loro un surplus che naturalmente non avrebbero mai prodotto e abbiamo cambiato il mondo è cambiato il paesaggio è esplosa la popolazione umana sono ripartite le migrazioni abbiamo conquistato i territori li abbiamo modificati e si vede questo si vede nello strato geologico si percepisce chiaramente quindi noi la proposta era farlo cominciare lì tra l'altro prendevamo due piccioni con una fava perché toglievamo la parola olocene che è stata coniata dopo infinite difficoltà nel 2008 e ci mettevamo antropocene ma figurati quelli che avevano fatto una fatica bestia per introdurre olocene ci hanno detto voi siete matti adesso l'abbiamo introdotto nel 2008 e ce lo fate togliere quindi non sarà così prevarrà probabilmente un'altra posizione ancora che però è molto significativa e cioè quella di far cominciare l'antropocene nel 1945 questa probabilmente sarà la scelta finale non lo so ancora ma diciamo che l'orientamento prevalente è questo perché perché i geologi hanno del futuro quelli attuali ma loro si immaginano chi verrà tra 10.000 anni nel 1945 andando a vedere lo strato del 1945 e degli anni successivi vedranno una firma indelebile quella che i geologi chiamano chiodo d'oro golden spike cioè una caratteristica netta precisa una cesura che sia tale per cui da lì in poi chiaramente inizia una nuova fase e avrete capito quella cesura lì sono gli elementi radioattivi dovuti al fallout delle bombe nucleari sganciate sul Giappone e tutti i più di 500 test nucleari fatti fino ai primi anni 60 quelle bombe e quei test nucleari sono il golden spike perfetto per i geologi del futuro pensate che anche tra 10 15 milioni di anni un archeologo del futuro che ma chissà extraterrestre o umano che dovesse mettersi a studiare queste cose vedrà quella triste sinistra linea al 1945 e dirà ecco qui è successo qualcosa qui comincia l'antropocene quindi Paul Krutzen con quella semplice provocazione ha cambiato la storia della scienza ha cambiato la storia del dibattito terminologico su questi temi mandami la prossima quindi gli rendiamo omaggio visto che ci ha lasciato recentemente antropocene quindi significa questo significa tutto un insieme di attività umane sostanzialmente tutte quelle che voi riuscite a individuare che abbiano come effetto un'indelebile firma di tipo biologico e geochimico sul pianeta terra questa ve la ricordo è questa foto di Burdinsky che è questo bravissimo fotografo che ha fatto questa mostra insieme con altri suoi colleghi antropocene che è girata anche in Italia molto molto bella se vi capita di rincontrarla in giro andate a vederla perché è bellissima sono proprio è l'antropocene raccontato attraverso l'occhio di grandi fotografi anche noi l'abbiamo fatto con Planet Book che è un libro di raccolta di fotografie di Salgado MacCarrie grandi fotografi che anziché semplicemente raccontartelo come sto facendo io l'antropocene te lo fanno vedere te lo fanno vedere con delle immagini sapete che le immagini la visualizzazione è molto più importante mandami la prossima e poi vado all'ultima parte del mio racconto e lascio la parola a voi questo era soltanto per farvi vedere che quando sentite parlare di antropocene non è soltanto climate change anche se ovviamente è importantissimo è una dinamica fondamentale non è soltanto inquinamento sono tante cose diverse è vedete crescita della popolazione è sesta estinzione c'è riduzione della biodiversità sono tante linee che vedete come avete visto prima nel caso della massa antropogenica fanno l'impennata dopo il 1900 e soprattutto lo vedete chiaramente dopo la seconda guerra mondiale quella che noi chiamiamo la grande accelerazione lì siamo noi e guardate che da un punto di vista evolutivo 70 anni dopo la seconda guerra mondiale sono niente sono pochissimo e allora qual è l'ipotesi che stiamo facendo noi questo è un po' noi evoluzionisti la chiave di lettura se volete che vi lascio è che sostanzialmente dopo questi 70 anni di grande accelerazione che ci ha dato dei ritorni economici evidenti adesso abbiamo dei costi adesso stanno aumentando i costi so che può sembrare cinico e brutale questa cosa però nell'evoluzione è importante sempre la bilancia costi benefici questo vuol dire che noi stiamo continuando a fare una cosa che tutto sommato facciamo da tanto tempo e cioè cambiare il mondo per renderlo più adatto alle nostre esigenze l'agricoltura è stato questo l'allevamento è stato questo le attività molte tecnologie lo fanno noi siamo questa cosa qua siamo una specie invasiva sicuramente prepotente che quando arriva cambia il mondo attorno a sé in modo da renderlo più adatto alle proprie esigenze questo è un tema generale con cui potete inquadrare la cultura le tecnologie e ripeto non sto dando un giudizio di valore anche altri animali lo fanno il castoro che costruisce la diga fa una tecnologia anche quella è una tecnologia bellissima tra l'altro la diga del castoro è un artefatto è un artefatto attraverso il quale il castoro modifica il mondo cambia il mondo interrompe una linea di corrente crea un lago di acqua ferma genera nuove nicchie ecologiche per sé e per gli altri animali quindi cambia il mondo gli ci fa la tana gli serve per acquisire più facilmente risorse cambia il mondo per sé e per gli altri quindi non siamo gli unici a farlo i cianobatteri che due miliardi di anni fa hanno inventato la fotosintesi immettendo come scarto l'ossigeno hanno cambiato il mondo e hanno plasmato la terra quindi anche altri organismi lo fanno ma sicuramente noi siamo i campioni del mondo di questa strategia siamo i campioni del mondo di questa strategia di cambiare il mondo per le nostre esigenze e allora quello che sta succedendo adesso e che succederà in futuro che cos'è? e lo sappiamo noi evoluzionisti perché è già successo in passato succede che chi cambia il mondo poi cosa succede? deve adattarsi a un mondo che lui stesso ha modificato cioè il gioco cambia a una freccia in due direzioni questo vuol dire io ho cambiato il mondo per renderlo più adatto a me? sì però poi i miei figli si devono adattare a un mondo che io ho modificato e devono starci dentro devono vivere devono viverci allora quello che sta succedendo oggi è che noi stiamo consegnando ai nostri figli un mondo più instabile più difficile da vivere dove l'adattamento è più costoso tant'è vero che avete visto che nei documenti internazionali si parla di mitigazione e adattamento mitigazione è attiva io cerco di mettere in campo delle azioni per mitigare gli effetti del riscaldamento climatico e poi c'è l'adattamento che invece è una parola passiva in teoria cioè devo trovare il modo per mettere in campo delle azioni per adattarmi a qualcosa che è già successo perché il climate change la crisi ambientale non sono il futuro sono il presente la temperatura è già aumentata di più di un grado giusto? quindi siamo dentro questo processo siamo dentro questa dinamica e dobbiamo cercare di capire che cosa vuol dire e che cosa dobbiamo aspettarci e da dove veniamo soprattutto quindi il tempo profondo che è un po' il mio motivo di fondo fin dall'inizio di questo di questo viaggio quindi l'antropocene sono tante cose diverse mi raccomando non voglio nemmeno dire assolutamente che quella curva da lì in poi dal 2020 in poi debba andare necessariamente tutte quelle curve debbano continuare ad essere così impennate lungi da me una ineduttabilità di questo tipo al contrario noi abbiamo un sacco di modelli pubblicati sulle riviste scientifiche più importanti che ci dicono anche un'altra cosa ci dicono che se noi mettessimo in campo tutta una serie di azioni io vi faccio l'esempio che conosco meglio per esempio prima vi ho detto il crollo della biodiversità beh noi sappiamo che se mettessimo in campo certi tipi di azioni le portassimo a implementazione da qui al 2030 e poi al 2050 vedremmo gli effetti positivi piuttosto rapidamente per esempio è stato calcolato ad Harvard da un gruppo di matematici statistici di biologi di Edward Wilson Martin Novak sono gente molto forte ha calcolato che se noi da qui a metà secolo decidessimo e mettessimo in atto una protezione parziale di circa il 50% della superficie terrestre inclusi gli oceani cioè vuol dire sostanzialmente che su metà della terra tu smetti di deforestare di scavare miniere di fare tutta una serie di ipersfruttamenti delle risorse biologiche caccia pesca intensive eccetera eccetera inquinamento e così via il che vuol dire desertificarle degli esseri umani non è che dobbiamo liberare metà della terra e non abitarci più no ci abitiamo ma in un modo diverso metà della terra hanno calcolato che facendola così per metà della superficie terrestre la curva di estinzione della biodiversità rallenterebbe fino a sostanzialmente stabilizzarsi indietro non si torna e quindi le specie perse fino adesso sono perse per sempre arriveremo circa a un 45-50% di estinzione della biodiversità che comunque è terribile comunque è una cosa orrenda ma insomma così facendo si ferma quindi se noi facciamo certe cose poi gli effetti si vedono positivi molto positivi si vedrebbero e si vedranno se lo faremo e abbiamo i modelli che ce lo dicono questo vale anche per il climate change vale anche per tante altre cose quindi se noi facciamo innovazione se facciamo ricerca facciamo innovazione tecnologica se dirigiamo questi investimenti in una certa direzione gli effetti ci sono questo va ricordato sempre perché anche alla politica nel senso come facciamo noi dobbiamo farci eleggere tra due o tre anni sì certo è difficile essere così lungimiranti però gli effetti si vedrebbero e si vedranno e ne saremmo tutti contenti quindi questa è una cosa molto importante per non dilazionare ulteriormente delle azioni concrete su questi temi qui tra parentesi ha ragione Greta Thunberg nel senso che bisogna fare molto di più molto più rapidamente e non è più tempo per impegni vaghi senza quella che viene chiamata una analisi degli effetti come si dovrebbe sempre fare nell'azione politica faccio una riforma faccio una scelta e poi vado a vedere dopo due anni dopo tre anni dopo cinque anni cos'è successo quali sono i dati quali sono gli effetti questo è quello che dovremmo cercare di fare che tutti i modelli ci suggeriscono di fare mandami la prossima perché di antropocene abbiamo già parlato tanto questa è una copertina molto bella che è uscita su Nature che appunto se volete poi andare a vedere i dati vi spiega molto bene tutte le componenti dell'antropocene che è quindi una dinamica complessa una dinamica sistemica quando si dice sistemica vuol dire una cosa anche qui semplice che dovremmo perché quando la dicono al telegiornale o nelle interviste a volte vuol dire che se il climate change la crisi ambientale non ha solo una causa ma è fatta da tante linee diverse di con cause è ben difficile che tu abbia un effetto positivo agendo solo su una oppure dandoti delle priorità piuttosto lente in cui prima ne fai una poi ne fai un'altra non è più tempo se la situazione è sistemica vuol dire che devi agire in modo sistemico cioè devi fare tante cose diverse a me è capitato in un congresso internazionale si discutiva anche di questo e a un certo punto gli giornalisti come al solito chiedono quindi sulla base dei vostri dati cosa bisogna fare? e un mio collega è saltato su e ha risposto tutto fate tutto e cosa vuol dire? fate tutto cioè everything cioè in ogni azione possibile alimentazione più sostenibile riduzione del consumo di carne riduzione del lavamenti intensivi le linee sono tantissime fate tutto cioè agite su tutto non in modo rivoluzionario però progressivamente su tutto in modo da ridurre le emissioni eccetera eccetera quello che sapete molto bene mandami le ultime perché le ultime voglio parlare di Novara e di quello che succederà a Novara adesso e poi vi lascio la parola a voi perché con i miei colleghi a Padova colleghi geografi e cartografi a Padova c'è un bellissimo museo di geografia dove c'è tutta la storia della geografia mappa mondi eccetera abbiamo recentemente fatto un esercizio di divulgazione con una finalità precisa che è questa secondo me ma non solo secondo me secondo tanti noi vorrei dire noi parliamo di climate change di antropocene da di antropocene da 20 anni da più di 20 anni e di climate change da 50 60 anni ok mi è capitato di parlarne con Piero Angela recentemente e a un certo punto stavamo parlando di queste cose lui fa mente locale e dice ma sai che la prima trasmissione pre quark che io ho fatto in rai sul climate change era del 1974 cioè sono passati 5 e da 50 anni dice Piero Angela che io parlo di ste cose ed è evidente che abbiamo cioè non dico abbiamo sbagliato qualcosa ma è chiaro che non è andata bene nel senso che se tu per 50 anni spieghi che abbiamo un problema e per 50 anni non si fa niente sostanzialmente da questo problema tranne nell'ultimo periodo qualcosa vuol dire che dobbiamo lavorare sulla comunicazione quindi bisogna sempre essere autocritici secondo me in ambito scientifico quindi autocritica vuol dire che evidentemente dobbiamo trovare dei nuovi linguaggi dobbiamo dirle in modi diversi queste cose e secondo me semplicemente condividere con il pubblico dei dati i numeri delle tendenze non basta bisogna raccontarli in un altro modo e un modo secondo me molto efficace è mescolare linguaggi diversi questo è il motivo per cui mi piace fare i spettacoli anche con musicisti con artisti metterci l'arte visuale mettere insieme saperi linguaggi diversi per parlare di queste cose perché così le condividiamo di più e le condividiamo anche con un pubblico più ampio non soltanto con chi è già convinto perché se io faccio una presentazione di un libro o faccio le solite conferenze molto spesso ho un pubblico che viene qui perché già è interessato alle mie cose quindi già è motivato invece se fai anche dei progetti in cui vai a sorprendere un pubblico che non se lo aspetta questo è molto più importante è ancora più interessante perché allarghi la platea allora in questo caso cosa abbiamo fatto abbiamo mescolato la narrazione scientifica dei miei colleghi geografi che spiegano che quali sono le tendenze in corso dell'impatto dell'antropocene sulla penisola italiana abbiamo messo il linguaggio in questo caso della fiction mia mi sono immaginato un gentiluomo del futuro che nel 2786 quindi mille anni esatti dopo il viaggio di Goethe in Italia il grand tour di Goethe che fece in Italia un gentiluomo del nord Europa viene in Italia per vedere esattamente come fece Goethe il nostro passato l'impero romano le nostre rovine l'archeologia romanticismo e così via soltanto che nel 2786 l'archeologia di questo signore siamo noi oggi nel 2021 e quindi viene a vedere noi dopo sette secoli e terzo linguaggio le mappe trova un'Italia completamente diversa questo è il nord est nel 2786 vedete che è sparito quasi completamente non c'è più la pianura padana il mare è entrato è arrivato a Lodi praticamente i milanesi finalmente potranno andare al mare in 20 minuti ai lidi di Lodi diciamo ok perché questo perché ci siamo immaginati e non è non è fantascienza nel senso che è uno scenario ovviamente improbabilissimo irrealistico nessuno si augura che succeda assolutamente però i miei colleghi geograimi hanno fatto una cosa seria hanno detto immaginiamoci che non facciamo nulla contro il scaldamento climatico immaginiamoci lo scenario peggiore non facciamo nulla si innescano tutta una storia di feedback positivi insomma faccio semplice di amplificazione del processo fusione prima di tutti i ghiacciai poi del permafos poi dell'artico e addirittura gran parte dell'antartide risultato abbiamo un sollevamento del Mediterraneo di 65 metri 65 metri ripeto totalmente irrealistico però è quello che si chiama una proiezione parossistica esagerata non del tutto impossibile ok e allora l'Italia con un mare più alto di 65 metri sarebbe così ci siamo immaginati Venezia ovviamente viene vista con una visita subacquea da questo da questo gentiluomo lo portano sopra Venezia gli fanno vedere Venezia sott'acqua Padova pure la città della mia università l'università viene spostata a Belluno ci sono anche delle rivincite storiche clamorose per esempio sapete che dalle mie parti nel Triveneto il Belluno giustamente si lamenta di essere la provincia più bistrattata non se la fila nessuno eccetera Belluno invece diventa una capitale straordinaria perché tutti i veneziani e tutti i padovani si sono trasferiti a Belluno e quindi Belluno diventa una metropole asburgica meravigliosa del sud Europa e tutti ci vogliono andare eccetera eccetera Verona si salva perché è lì vedete che è l'imitrofa e allora la tirano su tutti i monumenti li mettono su delle palafitte e diventa come Venezia una nuova Venezia eccetera eccetera insomma potete scorrere in questo viaggio nell'Italia dell'antropocene tutte tutte queste mappe i miei colleghi geografi hanno fatto anche una cosa raffinatissima ovviamente voi dovete immaginare che l'Italia non diventa così dall'oggi al domani ma in sette secoli quindi per il principio della rana bollita questa cosa succede piano piano e noi piano piano quasi senza accorgerci vedi che il mare sale su il cuneo salino entra dentro e allora cosa fanno gli italiani se ne accorgono e piano piano cominciano a fare delle azioni di adattamento quindi si spostano mettono degli argini e quindi i geografi hanno immaginato proprio anche tutte queste modalità di adattamento progressivo ovviamente con un po' di fantasia però abbiamo chiesto ai demografi abbiamo chiesto a tutti i nostri colleghi in modo che fosse un modello il più realistico possibile ovviamente la morale della storia qual è? e questa è quella che poi viene raccontata nella parte scientifica del libro è certo Italia del 2786 è un futuro remoto no perché i geografi ti fanno vedere capitolo per capitolo regione per regione che quello che qui è estremizzato il cuneo salino che entra la desertificazione le piante gli animali che si spostano in altitudine eccetera eccetera tantissimi fenomeni stanno succedendo adesso non nel 2786 cioè questo è un quadro estremizzato i cui germi i cui semi sono nel 2021 quindi il gioco come sempre succede in questi casi è che tu stai parlando del futuro remoto ma in realtà dentro quel futuro remoto stai parlando del 2021 e allora i miei colleghi fanno vedere come il cuneo salino per esempio nelle valli di Comacchio e nella zona del Po purtroppo sta entrando dentro sta viaggiando va verso Ferrara sta entrando dentro l'acqua salata e questo è molto pericoloso sappiamo per tante ragioni regate alla fertilità del suolo la desertificazione nel meridione non è il futuro è il presente solo che la desertificazione non è soltanto deserto di sabbia è tutta una serie di piccoli meccanismi fenomeni che stanno già succedendo dissesto idrogeologico insomma l'Italia è già dentro questa dinamica quindi non è futuro remoto ma nei suoi inizi è il presente questo è un po' il messaggio divulgativo quindi ultima slide ovviamente vi faccio vedere cosa succede a Novara voi siete salvi sostanzialmente avrete vedete che c'è quel mare lì che viene dentro praticamente da sotto Piacenza entra dentro non invade le risaie sostanzialmente se non minimamente quindi avrete ancora il vostro mare a quadretti però il mare salato praticamente ce l'avrete sotto Pavia e quindi in poco tempo andrete a fare il mare in questa specie di palude salmastra obiettivamente non è che sarà una gran cosa e quindi diciamo questa è la situazione poi ovviamente sopra di voi la cornice meravigliosa del Monte Rosa di tutte le Alpi non ci vedrete più né ghiacciai né neve perché quelli si saranno già fusi da tantissimo tempo ma insomma ed è il mio messaggio finale non ne abbiamo tantissimo abbiamo ancora il tempo per evitare che questo succeda e soprattutto abbiamo una cosa dentro la nostra testa che è l'innovazione la ricerca la creatività l'intelligenza per fare in modo che questo scenario non succeda e non si non si verifichi questo dipende da noi ma soprattutto dipende dai nostri figli dai nostri nipoti che dovranno tirarci fuori da questo guaio e vi ringrazio tanto e buon dialoghi con la scienza anche prossimi questo è un applauso di sollievo per Novara giusto e per i vostri competitor che invece sono tutti sommersi giusto in Emilia Romagna eh lo sapevo perché poi i campanilismi italiani ma ce ne sono anche delle altre carine per esempio Pisa e Livorno finalmente separate da un braccio di mare e abbiamo chiuso la storia diciamo e se non so quanto tempo abbiamo io sono a piena disposizione anche se ci sono domande curiosità commenti quando dobbiamo lasciare il teatro me lo dite se no andiamo avanti fino a stasera non c'è problema per me c'è un microfono sanificato e quindi la mascherina ok posso togliere non vi vedo buongiorno ah ecco buongiorno sono Lucio e vengo dal mondo della tessitura maglia facendo il controllo qualità ci siamo accorti che tutti gli errori difetti tutti gli scarti che vengono nel mio mondo ma penso se si può verificare che in qualsiasi campo di tutti i difetti il 20% di questi difetti sono ascrivibili a un tipo solo di difetto certo non è la soluzione però statisticamente è una media significativa ecco lei ha detto che tutto va cambiato in meglio e sono d'accordissimo ma si potrebbe trovare anche delle priorità magari seguendo questo metodo se è valido io l'ho conosciuto attraverso lo studio del controllo qualità ecco cosa metterebbe come diciamo primo passo deciso perché si possa arrivare a come dire il 20% non è zero e quindi ci potrebbe dare una speranza ecco di avviarci e questo è una cosa poi lascio spazio agli altri grazie questa è un'ottima osservazione sono totalmente d'accordo diciamo che questo commento questo caso specifico ci dice una cosa di cui parleremo anche nei conti prossimi cioè che ci sono molti interventi che noi possiamo fare anche a costo zero per esempio interventi di efficientamento di modifiche anche di filiere in quel caso non sempre a costo zero però possiamo fare tantissime cose da questo punto di vista assolutamente e anche qui in tanti campi diversi e poi continuo a leggere come dire innovazioni bellissime l'altro giorno leggevo di questi jeans che adesso possono essere fatti completamente non solo biodegradabili ma anche compostabili e quindi che addirittura tu quando non li usi più puoi usarli come compost per il cotone per farne degli altri quindi proprio economia circolare allo stato puro una cosa bellissima ovviamente ma questa sarà una delle domande che farò a Katia Bastioli quei jeans costano 250 euro a paio al momento e quindi è chiaro che è ancora un po' costoso come si fa il più rapidamente possibile a ridurre i costi di queste tecnologie e poi di questi prodotti così interamente di economia circolare questa è una grande io non so rispondere ma appunto ci sono esperti molto più esperti di me che possono rispondere però sicuramente la strada è quella l'altra grande domanda che faremo ai nostri ospiti è possiamo fare tutto questo senza però anche ridurre in termini assoluti comunque i consumi e questo sapete che è un tema molto delicato perché se io riduco i consumi deprimo l'economia è vero? Cioè è proprio così l'alternativa così secca oppure no? Quindi sì sono d'accordo con lei e partiremo anche da questi spunti per parlarne con i nostri con i nostri ospiti prego grazie mi viene voglia di estinguermi dopo averti sentito no dai perché non so no però dico questo per farti questa domanda e ti chiedo una risposta da biologo è più facile immaginare la fine del mondo che la fine del capitalismo e la seconda domanda che ti faccio è che cos'è un modello tra i biologi lo dico anche perché c'è una narrazione secondo me anche apocalittica rispetto alla questione climatica che secondo me deve essere analizzata pensavo anche al libro di Kooning che è uscito quest'estate Kooning è stato sottosegretario all'ambiente per Obama dove dice che appunto i modelli che diciamo così descrivono la catastrofe climatica non sono esatti e vengono narrati da un sistema mediatico in maniera errata e quindi che cos'è un modello Telmo Piovani certo giustissime tutte e due domande allora comincio dalla prima e risalgo alla seconda cos'è un modello è una cosa giustissima da dire e quando si spiegano questi modelli e lo facciamo lo facciamo con i nostri studenti ma andrebbe fatto anche negli incontri nella divulgazione bisogna sempre spiegare il metodo e il processo che ti porta a realizzarli e anche quali sono i loro limiti naturalmente i limiti di predittibilità per esempio nel modello quello sulla massa antropogenica c'era un più o meno 6 che vuol dire che c'è un più o meno 6% di variazione nel calcolo di quella massa che non è poco ma tutto sommato in quel caso lì noi ci sentiamo fiduciosi nel presentarlo perché anche un più o meno 6% non cambia la sostanza del discorso quindi devi spiegare come sono fatti quelli che faccio io da evoluzionista sono modelli fatti si dice per consigliens parola difficile cosa vuol dire vuol dire che si prendono dati provenienti da discipline diverse quelli che faccio io per esempio sull'evoluzione umana dati archeologici paleontologici molecolari paleoecologici li si mette tutti insieme e si fanno delle ipotesi per spiegare per rendere conto di quelle ipotesi al plurale se ne fanno diverse per rendere conto di quei dati e poi si confrontano tra di loro l'ipotesi finché vedi che ce n'è una che è più parsimoniosa cioè che spiega meglio quei dati e quella la scegli come tuo modello in quel momento ma la cosa importante è che poi devi continuare ad aggiungere dati in modo da rivedere revisionare o eventualmente cambiare il modello quindi è sempre molto importante quando vedete questi modelli raccontati non sono scritti sulla pietra sono delle fotografie di una conoscenza che noi abbiamo allo stato dei dati attuali dopodiché però bisogna distinguere anche il nocciolo del messaggio poi da tutti i dettagli quindi è chiaro che sui modelli climatici il fatto che le attività umane siano per il 98% causa di quello che stiamo vedendo è il nocciolo del messaggio dopodiché abbiamo un sacco di incertezze quello che a me colpisce però ed è bene che ce lo diciamo è che se tu guardi i modelli dell'IPCC di qualche anno fa davano degli scenari no? a un certo punto si sono messi a fare degli scenari giustamente non ti dicono più le cose andranno così ti dicono se ne faremo certi tipi di azioni questo è lo scenario più probabile se no se no se no se no dopodiché spetta a noi sostanzialmente decidere in quale scenario infilarci se tu li confronti con gli ultimi quelli usciti l'anno scorso e quest'anno purtroppo siamo dentro di scenari peggiori quindi stanno peggiorando i modelli non stanno migliorando e questo è importante perché ti fa vedere al di là dell'imprecisione del modello una tendenza in corso che in questo caso è preoccupante quindi vuol dire che quando ci dicono che tra l'altro è una cosa impressionante che io noto sempre di più perché io lo faccio di mestiere come filosofo della scienza ormai non c'è settimana noi facciamo il monitoraggio settimanale di tutto quello che esce su Nature Science tutte le più importanti riviste scientifiche ormai è un'ossessione cioè non c'è settimana che non escano decine di articoli dicono sono toni che erano inconcepibili dieci anni fa cioè io lo dico scherzosamente ma leggere oggi Nature Science sembra di leggere i report di Greenpeace o di lega ambiente di dieci anni fa van giù durissimo e dicono guardate che se non facciamo qualcosa nel cambiare i nostri modelli di consumo di sviluppo nel lottare contro le diseguaglianze globali ci troveremo qui e non è scritto ripeto in una rivista di un movimento ecologista ma è scritto su Nature Science e su Lancet Lancet la compassata e prestigiosa rivista di medicina sta facendo delle campagne molto forti su questo quindi questo secondo me anche da un punto di vista di sociologia e della scienza è una cosa interessante c'è un cambiamento anche nel linguaggio nella sensibilità molto forte sulla prima domanda sì nel senso sono d'accordo con te nel senso è ineludibile quella domanda cioè la domanda è quanto radicalmente dobbiamo cambiare i nostri modelli di consumo i nostri modelli economici i nostri modelli di sviluppo e le diseguaglianze che hanno creato perché sappiamo che il climate change verrà pagato da chi meno ha contribuito al climate change e ci sono paesi che galoppano come l'India e la Cina ai quali non possiamo dire voi vi fermate naturalmente ma quel galoppo sappiamo quale peso avrà nei prossimi decenni per tutti quindi è un tema gigantesco io lancio solo un sasso nello stagno anche perché anche qui vorrei sapere tanto cosa ne pensa Katia lo vedremo nell'ultimo incontro anche Marco Malvaldi e gli altri ed è a me pare di vedere un inizio nella dinamica di questo tipo a COP26 come si vede chiaramente da un lato diciamo alcuni che vedono nelle tecnologie un ancora di salvezza e questo è giustissimo ma che forse vedono nella innovazione tecnologica anche un po' un alibi mettiamola così del tipo si dai vedrete che troveremo la grande scoperta tecnologica che ci tirerà fuori dai guai e forse non dovremo poi cambiare così tanto i nostri stili di vita i nostri modelli di sviluppo a me questa tendenza preoccupa un po' perché l'innovazione tecnologica è fondamentale è il pivot di tutto questo ma non può essere un alibi per non fare anche altre cose cioè cambiamenti anche più profondi e radicali nei modelli di sviluppo e mentre c'è un'altra corrente di pensiero che io condivido molto di più che vede invece l'innovazione tecnologica unita al cambiamento economico e sociale con domande del tipo quell'innovazione tecnologica vogliamo chiederci fin da subito chi ne avrà diritto chi avrà accesso a quella quanto costerà chi pagherà questo è molto importante è tutto l'aspetto sociale ed economico dell'accountability della valutazione poi delle tecnologie questo per me è molto importante perché io quando sento dire sì sì ma dai bombarderemo le nuvole facciamo geo-ingegneria e ce la caviamo ecco vediamo cerchiamo di capire bene cosa vogliamo fare perché le tecnologie ce ne sono di tanti tipi diversi quindi questo però non rispondo io risponderanno gli esperti in questo campo la mia idea la si capisce chiaramente dalla mia risposta è che tutto quello che faremo non potrà eludere un cambiamento nei nostri stili di vita nei modelli di consumo ma anche qui attenzione nel senso che anche scaricare tutto solo sul fatto che io devo essere più virtuoso anche no devo essere io più virtuoso ma anche le aziende lo devono essere anche la politica deve imparare ad assumersi un po' di più le proprie responsabilità con un po' più di visione e basta con il piccolo cabotaggio del consenso immediato qualche mese fa buongiorno qualche mese fa Marco Paolini è venuto a presentare il suo spettacolo in questo teatro e ha trattato anche un po' di questi temi e diceva perdonate il riassunto un po' impietoso nel corso dell'evoluzione l'uomo la paura ha giocato sempre un ruolo importante nel corso dell'evoluzione dell'uomo per la sopravvivenza perché questi argomenti non ci fanno scattare il meccanismo della paura? questa è una bellissima domanda la conosco bene perché ne abbiamo discusso tanto con Marco perché stiamo facendo un progetto insieme anzi vi invito a dicembre in prima serata su Rai 3 dopo Massimo Gramellini su Rai 3 il sabato andrà in onda una nuova programma tre puntate soltanto di un'ora e mezza si chiama La fabbrica del mondo dove siamo in scena io, Marco Paolini ed io e parliamo proprio di questi temi con molti ospiti internazionali che vengono a parlare e parlare proprio di questi temi della transizione ecologica la fabbrica del mondo è proprio questa metafora che siamo dentro tutti questo processo di cambiamento di cui siamo una parte e il tema delle paure è un tema fondamentale una radio Radio Popolare qualche giorno fa ha fatto un sondaggio ponendo a tanti esperti una singola domanda molto intelligente la domanda era ma perché quando siamo stati colpiti dalla pandemia avevamo paura e abbiamo chiesto la scienza di darci dei dati e abbiamo ascoltato la scienza perché non facciamo la stessa cosa con il climate change la crisi ambientale che rischia anche quella di costarci caro e soprattutto sapete che c'è anche una connessione anche se purtroppo qualche mia collega e collega virologo e virologa continua a dire che non è così e invece è così c'è una connessione tra l'ecologia e le pandemie c'è una connessione tra la deforestazione commercio illegale di animali esotici l'antropocene e il fatto che le pandemie diventano più probabili e più pericolose e più contagiosi si chiama era pandemica non lo dico io ma lo dicono grandi esperti di questo campo quindi come si fa a rispondere a questa domanda? una risposta possibile secondo me è proprio quella legata alle paure cioè la pandemia è un evento emergenziale le persone muoiono io vengo da Bergamo è stato terribile l'abbiamo vissuta per mesi percepisci chiaramente che hai bisogno di aiuto e ti affidi a chiunque ti dia delle informazioni utili il problema del climate change è che non riusciamo a percepirlo in questo modo non ci fa ancora abbastanza paura e la paura non è necessariamente un sentimento negativo lo è quando ti paralizza ma quando ti dà la spinta per fare qualcosa può anche essere importante però per tornare anche alla domanda di prima quando facciamo comunicazione su questi argomenti non bisogna nemmeno eccedere nella nelle emozioni negative è stato verificato anche questo tante volte cioè se tu eccedi nel messaggio apocalittico e catastrofico alla fine il pubblico dice vabbè si rassegna è chiaro che non posso fare niente no invece puoi fare tantissimo quindi anche nel comunicare bisogna mescolare emozioni negative ed emozioni positive quindi è una bellissima domanda non so cosa risponderti ma credo che il noccio della risposta sia nella differenza che c'è e nella difficoltà che facciamo a interiorizzare questo processo è un processo difficile complesso non lineare e noi lo vediamo proprio facendo comunicazione quindi non so abbiamo avuto un maggio freddo e piovoso nel Mediterraneo è colpa del riscaldamento climatico eh in che senso me lo devi spiegare no? mi devi spiegare le correnti atmosferiche a getto mi devi spiegare un sacco di cose non è facile è un processo grande globale non lineare quindi a maggior ragione dicevo prima dobbiamo essere bravi a raccontarlo nel modo giusto anche a chi poi deve prendere delle decisioni in merito una curiosità si sente ok una curiosità tornando al grafico iniziale che mostrava come le masse antropogeniche hanno eguagliato spero di non sbagliare i termini le biomasse volevo solo chiedere se è stata contata la popolazione umana in quale delle due aree è stata contemplata giustissima domanda ma guarda ci servono tantissimi dettagli li puoi vedere in questo sito la massa umana gli 8 miliardi quasi di esseri umani è stato cancolato nella biomassa e pesa conta per la biomassa lo 0,01% quelli siamo noi ed è incredibile perché lo 0,01% della biomassa ha prodotto una massa di oggetti pari a tutto il resto ok quindi questa è una cosa molto interessante se poi ti interessa se vai a vedere dentro ci sono tutte le percentuali la biomassa questo è molto interessante tutta è fatta per il 90% di vegetali piante quindi questo è il pianeta delle piante lo sappiamo da tanto tempo 10% tutto il resto in quel 10% gli animali sono una minoranza esigua e noi mammiferi siamo una minoranza della minoranza quindi noi siamo proprio niente però anche questo è un dato incredibile che trovate dentro lì se isoli soltanto i mammiferi quindi lasci fuori tutto il resto e metti sulla bilancia i mammiferi che abitano che ci sono sulla terra oggi lì le cose cambiano perché fatto 100 il peso di tutti i mammiferi sulla terra il 30% poco più siamo noi esseri umani ok quindi lì già vedi che sui mammiferi noi umani siamo un bel peso ma più del 60% sono animali d'allevamento ok mammiferi quindi stiamo parlando di bovini ovini suini sono il 60% di tutta la biomassa dei mammiferi sulla terra sono quelli che ci mangiamo noi negli allevati negli allevamenti intensivi quasi tutti la fauna selvatica cioè tutto il resto leoni tigri orsi popotami elefanti tutto il resto dei mammiferi sono il 4% quindi la fauna selvatica come dire da cui proveniamo tutti oggi è il 4% di tutto il peso dei mammiferi quindi lì vedi proprio tutto tra l'altro questi calcoli sono fatti al netto dell'acqua quindi togliendo l'acqua poi lì puoi trovare anche tutti i calcoli fatti invece non soltanto al peso secco ma al peso umido cambia poco si spostano solo un po' più in là ma la dinamica è la stessa stai dirigendo verso un'altra domanda ecco prego sì sì no una cosa semplice è un'illazione è una domanda in l'azione adoro la fantascienza i film distopici quindi vedere questi mondi in cui davvero non ci sono più niente non c'è più nessuno l'umanità non c'è cosa ne pensa del fatto di tra virgolette abbandonare la terra cioè orientarsi comunque nell'andare a cercare i mondi fuori dal nostro che possano essere una piccola evasione per far sì che si alleggerisca questo mondo e si parte in qualche modo su altri così cosa ne pensa sì è una bellissima domanda allora uno degli slogan dei movimenti in questo periodo giustamente non c'è un pianeta B giusto e sono d'accordo non c'è un pianeta B e lo applicherei anche a questa domanda nel senso che fare questo tipo di ricerca su spedizioni su altri corpi del sistema solare secondo me resta molto importante ma non per quella ragione lì mi spiego se la retorica come un po' purtroppo è stata anche soprattutto di questi magnati super miliardari privati è andiamo su Marte perché abbiamo bisogno di un pianeta B sono totalmente in disaccordo quella è una retorica completamente sbagliata è propaganda ed è una competizione tra di loro spendono un sacco di soldi e va bene se invece la mettiamo da un punto di vista più serio così come è già successo in passato cioè andiamo su Marte non perché abbiamo nella minima speranza di andare ad abitarlo perché è un posto terribile in cui stare e l'unico pianeta abitabile che conosciamo è questo e con ogni presunzione rimarrà questo ancora per tantissimo tempo e dobbiamo tenercelo stretto però perché invece bisogna andare su Marte bisogna andare su Marte perché se io riesco a implementare delle tecnologie che mi permettono di stare in un posto così estremo ci sono buone probabilità che io scopra qualcosa di interessante per poi applicarle sulla Terra cioè vado là perché quello è un esperimento per la Terra non come sostituzione della Terra ed è già successo così anche quando siamo andati sulla Luna e in tante altre occasioni abbiamo fatto abbiamo investito tanti soldi non perché volevamo stare sulla Luna ma per andare sulla Luna abbiamo scoperto tecnologie che sono diventate utilissime sulla Terra quindi il paradosso bello è come diceva Carl Sagan guardiamo il cosmo esploriamo il cosmo ci andiamo per imparare a stare meglio a casa nostra cioè su questa piccola pallina blu azzurra e verde che vista dalle sonde è la sperduta in mezzo al sistema solare e tra l'altro una cosa che racconteremo proprio nella fabbrica del mondo con Marco Paolini la racconterà Marco magistralmente è che Carl Sagan Jim Lovelock e tanti altri grandi che poi sono diventati dei padri anche del pensiero ecologista hanno raccontato spesso che hanno avuto questa illuminazione proprio lavorando su queste sonde che andavano fuori le Viking le Pioneer e così via e c'è una bellissima storia raccontata da Jim Lovelock che è il padre dell'ipotesi Gaia che dice che era stato uno di questi ingegneri che era quello che faceva gli strumenti di rilevazione potenziale di organismi su altri pianeti che dice un bel giorno durante la pausa pranzo erano i primi anni settanta abbiamo deciso nel tempo perso di prendere la sonda e girarla verso la terra per vedere l'effetto che faceva quando abbiamo girato la sonda verso la terra abbiamo visto il nostro pianeta là piccolo lontano sperduto dice Lovelock è stato come quando la moglie di Lot si gira nella Bibbia siamo rimasti paralizzati di sale perché per la prima volta abbiamo visto la fragilità la bellezza e l'unicità del nostro pianeta lì sospeso nel buio nel freddo più assoluto e lì abbiamo capito appunto che bisogna continuare a fare ricerca anche aerospaziale ma sapendo che avrà ricadute sulla terra aggiungo ma questa è una mia nota personale siamo tutti contenti che anche i privati investano in questo però secondo me se poi queste cose vengono controllate da agenzie pubbliche e internazionali e multilaterali per me è molto meglio bene dobbiamo lasciare il teatro vi aspetto le prossime domeniche per i dialoghi con la scienza grazie 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 grazie